Cari amici, buongiorno. Vorrei innanzitutto salutare il mio vecchio amico Enzo Marzo e congratularlo sulla convocazione di questa conferenza. Mi dispiace di non essere tra voi in persone, ma sono adesso a Toronto dove insegno l'Unione Europea. Qui i miei studenti non capiscono perché l'Europa non sia già unita. Loro guardano i Stati Uniti, guardano un paese che funziona come un paese per tutti i suoi popoli, un paese vero che ci ha voluto 170 anni tra la fondazione iniziale e l'adesione dell'Alaska, ma che funziona da molto tempo come paese coerente. Questo ci manca sempre in Europa e francamente con le sfide che abbiamo a livello globale, dobbiamo essere in fretta a fare l'Europa. Quando si tratta della sfida del cambiamento climatico, della sfida di evitare la guerra nucleare, della sfida di agire per un mondo più giusto e più uguale per combattere l'immigrazione, dobbiamo farlo insieme, dobbiamo farlo con umanità, non sulla base dei Stati e degli interessi di Stato. Ha detto Einaudi, ed aveva ragione, che questo idole dello Stato-nazione non serve, non può essere più la risposta ai nostri grandi problemi. Dunque, e soprattutto in vista delle elezioni europee dell'anno prossimo, vi auguro un buon lavoro, vi auguro un grande successo cristallizzando quest'idea di una coalizione tra le forze centriste di centro-sinistra per confrontare queste elezioni e soprattutto per fare combattere l'idea dell'estate illiberale, delle democrazia illiberale che sta prendendo sempre in Europa. Buon lavoro e da presto. Grazie. 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 Grazie.